Allora, chi altro hanno votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 372, contrario 1. La Camera approva. Allora, colleghi, salutiamo gli studenti del liceo scientifico statale Vito Volterra di Ciampino, che sono qui in aula e stanno assistendo ai nostri lavori dalla tribuna. Bene, adesso siamo al 25 sexis e chiederei quindi il parere alla Commissione. 25 sexis e 300, parere favorevole. Favorevole, grazie. Il Governo? Conforme al relatore. D'accordo. Allora, se nessuno chiede di intervenire su questo emendamento, non mi pare che ci siano braccia alzate. Dichiaro aperta la votazione. I pareri sono favorevoli. Dall'Ai. 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 Va bene, hanno votato tutti? No. Fabri. Prego, Fabri. I lozzi.